Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritornati su Brawl Stars, nuovamente in compagnia del signor Ferre Che sono io È lui, è lui ragazzi Gigi Salve, salve a tutti ragazzi, buongiorno, come state? Tutto bene? Sono sempre qua ormai Sì, sì, ormai ragazzi, lui è sempre qua, sono sempre anch'io sul suo canale, mi raccomando, anche sul suo di canale stanno scendo tutti gli sneak peek, trovate il link in descrizione Una coppia stabile oramai Esattamente, esattamente, da diverso tempo ormai, da diverso tempo E oggi andremo a provare Feng, dopo che nel video ieri invece abbiamo provato Grom E lo andremo a provare questa volta con i vari tank, quindi anche le skin dei tank, dato che ieri abbiamo provato anche i lanciatori e le skin dei lanciatori Però ovviamente prima di iniziare, codice creatore, GGYT tutto attaccato, uno shop per supportare me, codice Ferre, tutto attaccato Non Fengre, Ferre, mi raccomando Esatto, non vi sbagliate perché sennò poi supportate Feng e non vorrei O neanche Fengre che è un misto di due, no, Ferre Fengre è figo, eh? Fengre è figo, eh? Attenzione, ottimo Nick Mi raccomando ragazzoni, non vi dimenticate anche un bel mi piace Iscrivetevi ai canali, se ancora non sei fatto E oggi ovviamente lo andremo a provare sempre nei duelli Con le skin, ovviamente Ormai ci siamo presi bene a pigliarci a pizze, eh? Sì, sì, ormai con i duelli Ma tanto già lo facevamo prima Ok, allora Partiamo tutti e due con Feng Io è la prima volta proprio che lo utilizzo Uh, guarda quanto va lontana la scarpa quando non itta Ah, la ciabatta, eh, mi lanci Oh, ma ha fatto male però, eh Eh, io pure Guarda che è un long, però non è un fisico questo Sì, certo, fa pochissimo danno, eh, da long Però, ma più che altro, io da quanto ho capito Serve più che altro per caricare la ulti sto colpettino qui Eh, infatti What? Cosa fai? È il gadget Volevo vedere, volevo vedere com'è È stavato Allora, oddio Ok Eccolo No L'ultimo me l'ha pigliata Eh no, non te l'ha pigliata È il Corazón È il Corazón? Che quando esce il Corazón? Vediamo se sei preparato No, 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 aspetta Aspetta, aspetta Eh, il Corazón Che è questo brawler che sto utilizzando io Eh, eh, eh Esce, ragazzi Eh, a San Valentino Sto fagliato A San Valentino Esatto Ok E quante gemme costerà? Così intanto lo distraggo, ragazzi Eh, costerà 49 gemme Tra l'altro volevo farlo Abbroso di distrarti Volevo farti mettere vicino a questi muoretti arancioni Per farti vedere se si possono rompere o no Perché mi sa che non si possono rompere Ma guarda, a me in questo momento sinceramente Ti interessa soltanto di ucciderti Ok, no, ma dai Non mi ha preso la ultima Ok, signor Ferre Ok Ah, non abbiamo letto le abilità stellari E neanche i gadget Infatti ho detto Ma scusa Ma perché si mette a lanciare i popcorn? Sì, sì Siamo partiti a bomba Siamo partiti Beh, devo dire che è abbastanza rotto come brawler, eh Mi ha scoppiato, cioè È abbastanza forte, ragazzi Allora, tornando alle skin, invece E il tigro Che è la skin del primo Che stavo utilizzando io Si potrà scioppare Dalla stagione tra gennaio e febbraio A 149 gem, ragazzi Ok Costicchia Oroci Edgar Che poi è la skin che c'hai pure tu Stessa identica cosa E costerà anche lui 149 gem Sì Non si sa ancora di preciso Quando uscirà Al massimo Vi aggiorneremo man mano Esattamente E adesso direi di andare a leggere Le abilità stellari e gadget di Feng E poi dopo andremo a fare anche un'altra partita Dove proveremo altre skin Che nel video di ieri Quello di oggi ancora non abbiamo provato Ok Ok Allora, il gadget L'abbiamo letto Ma Cioè, l'avevamo visto Funziona ma Visto La spilla dietro E attaccata la cintura Sì Sì, sì, sì Ma anche sì, esatto Davanti e dietro E E anche quella tipo Vabbè, non so se tu dicevi quella sul cappellino Dicevi quella sul cappellino Visto pure sul cappellino Ce l'ha? Ok Sicuramente Direttamente il sacchetto di popcorn Quello è già l'evoluzione Esatto Esatto E Feng Crea una pioggia di popcorn Lanciando in aria Una manciata di chicchi di mais Ogni chicco che scoppia Causa 500 punti danno Non è male Ok Ok, ci sta Poi Calci furiosi La prima abilità stellare Se Feng sconfigge un nemico con la super Questa si ricarica istantaneamente E torna subito a disposizione Però si uccide un avversario E attenzione Ok Interessante Io stavo utilizzando invece questa Su Ale Divine Perché le stavo leggendo prima ragazzi Di iniziare a registrare E me ne ho dimenticato di rimettere la prima Ecco perché hai vinto Hai fatto finta di niente Esatto Ho capito Ho capito Esatto Perché senti quanto è forte questa Feng subisce 500 punti danno in meno dagli attacchi subiti una volta ogni 3 secondi Riduce fino a un massimo del 90% dall'attacco subito Ah ok Insomma è bella È devastante Secondo me è devastante Detto ciò Ma signor Gigi Ho notato una cosa Che non c'entra assolutamente niente Però è abbastanza peculiare Ok In questo pass Ci saranno non solo emoji Per Feng Per Feng E per la skin di Feng Ok Ma se vai su Rosa C'è anche una skin speciale per Rosa Che sarà Ricordiamo la skin della prima sola del pass Sì esatto E infatti lo andremo a provare adesso signor Ferre Noi adesso andremo a provare Nita e Rosa insieme a Feng E lo andremo a provare con la skin tra l'altro Quindi andremo a provare la skin di Feng Quella del livello finale del pass Diciamo Super Saiyan di livello 5 Esatto E poi il famoso Super Saiyan di livello 5 Mamma mia E poi Rosa E poi Nita appunto con le nuove skin Ragazzi Nita è bellissima Rosa Carina ma non troppo E Feng Devo dire che così è tanta roba Detto questo Sei pronto signor Ferre? Io ho già messo ridi in realtà Devi sapere Ok ragazzi Allora Feng con la skin Ma Signor Ferre Allora prima hai vinto Adesso Sono affari tuoi Sono affari me Ma scusi Che cos'è quello stecca? No a parte che stecca È una parola che ti sei inventato te Non esiste nessun brawler Che si chiama stecca Ah no Non esiste nessun brawler No No Al massimo Al massimo rico Stecca non Adesso faccio che dire Mi invento anche io il nome di un brawler Faccio che dire Boh Non so Io sto usando un brawler Che si chiama Pandora Bello il nome Pandora È bello Sì ci sta Ci stanno È un'attrice È un'attrice famosa Ok No No Bella sta ulti Maglietti lo popcorn No No ma Ma mi ha distrutto Ma ho vinto io Ma È certo che ho vinto io Ho vinto io Ma come Eh sì eh Eh sì Proprio così Ma mi dissocio È proprio fatto così Eh sì Perché è ricco Perché anche se non lo sto usando Worka Mi dissocio Worka sempre Non importa cosa fai nella tua vita Ok Ai 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 Calci non te No no Dai Mamma mia Non ci credo John Cena Di quanto Maledizione Eh mo con Nita Bella Nita però Ha dei colpi bellissimi Tra l'altro Bellissima Eh Ma io mo qua la vedo parecchio difficile Con la mia povera Nita Attenzione Aia Eh mo con la ulti Ti piacciono i popcorn Nita No non lo so Attenzione Ai 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 Attenzione Ok Bello Dai Mamma mia Aiuto un orso Un orso gigantesco No Cento di vita Ma è legale questa cosa Ok Eh Oddio E calla Signor Gigi E calla E calla Allora se dopo tutta sta roba Non mi batti in mezzo secondo Con Rico Sai cosa faccio Visto che lei Signor Gigi Non è Non è stato Non è stato preciso Ok Io adesso per il content Faccio una cosa Guarda Cosa Cos'è Io l'ho uccito eh Mi faccio Mi faccio killare Ok Ragazzi lo faccio per voi eh E vi faccio vedere L'emoji Esclusiva Di questo pass Di rosa Per il content Ragazzi Per il content Adesso per il content Ti riempo di pizze però Per il content Se ce la fai Non ci credo No Avevi Avevi Il cura Il cura Quello che cura Sì quello che cura Ma perché il mio Rico Ha fatto l'uovo Ma Nel dubbio Nel dubbio Nel dubbio Comunque raga Giusto per ricordarvi Anche ovviamente L'uscita di queste skin Fang ovviamente Come dicevo È l'ultima skin Del brawl pass Quello nuovo Deve uscire Rosa invece È la prima Proprio la primissima Mentre Nita Poi uscirà Con Sempre la nuova stagione Perché sarà la skin Della nuova lega E quindi Bisognerà poi Sbloccarla Con i classici 25.000 punti stellari Esatto Sì ma in alternativa Potete usare anche Rico Che quello c'è già Quello c'è già Anche se però non è facile Raggiungere i punti Che servono I gettoni Che servono Per sbloccare Rico Pollo Eh sì È proprio esoso Eh sì 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 Ce ne vogliono Di gettoncini Detto questo ragazzi Mi raccomando Vi ricordo Codice GGYT Codice Ferre Negli shop Per supportarci Fondamentali Mi raccomando Ricordo anche di uscire Un bel mi piace Di passare sul canale di Ferre Trovate il link In descrizione Per noi è tutto Ci troviamo domani Con il prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao belli Ciao belli Ciao belli